Dicesi assist al Milan sul tema Leao. Ben ritrovati come state, vi invito sempre a iscrivervi se avete ancora fatto, siamo quasi 10.000 in questo canale in cui parliamo di tutto, in questo caso di Milan. Lasciate un bel like e commentate numerosi. Allora, ha parlato poco fa il CT del Portogallo, che di fatto, insomma, Fernando Santos ha confermato quella che è una mia tesi, della quale oggi ho parlato e ho scritto sul mio editoriale su calciomercato.com, nel quale dicevo Leao ha capito che al Milan è il protagonista e nel Portogallo è uno dei tanti. Di fatto, oggi, poco fa il CT del Portogallo, spiega su Leao che cosa dice? Ha potenzialità enormi, fin qui siamo tutti d'accordo. Avrà una grande carriera, ma sta vivendo le normali difficoltà che ha un giocatore che nella sua squadra di club gode di una certa libertà e non è chiamato a bilanciare il gioco. Ha fatto uno sforzo fantastico, ma ci sono giocatori che spiccano in alcune squadre e in altre no. Questo non toglie nulla le sue qualità e la fiducia che ho in lui. Tradotto, lui dice, quello che diciamo anche da un po', cioè che Leao al Milan, il Milan è perfetto per Leao, e Leao è perfetto per il Milan. Il Portogallo non è perfetto per Leao, e Leao non è perfetto per il Portogallo. Tradotto, il Milan è costruito attorno alle sue qualità, che possono emergere. Altrove, lui invece ha difficoltà. Ci sono questi giocatori, dice anche il portogallo, che chiaramente parla anche quotidianamente con Leao. Quindi, sostiene un po' quella che è la nostra tesi, che è la tesi del Milan e dei Maldini. Quindi, lui per continuare a crescere deve restare al Milan, altrove rischia di bruciarsi, come è successo a tanti giocatori, soprattutto poco più che ventenni, come Rafa Leao. Mi sembra un assist importante rispetto alle ambizioni del Milan di rinnovare il contratto, detto che Mr. Pioli, nelle scorse ore, ha detto, attendiamo buone notizie, facendo capire che lui si aspetta il rinnovo di Leao. Questo mi sembra un altro assist, la prova certificata di chi appunto lo conosce bene, di chi sicuramente ha influenza su di lui, gli fa capire che al Milan può star certo di essere un top. Altrove, uno come lui può andare in difficoltà, come sta andando nel portogallo in difficoltà. Ditemi che cosa ne pensate, commentate numerosi, lasciate un like e iscrivetevi in questa zona se non l'avete ancora fatto. Un abbraccio! Un abbraccio!